A novembre su Sky 3D, trasforma la tua fantasia. Un'avventura immortale in prima visione e un mese di grandi film. Ehi, mi fumano i circuiti! Il divertimento per i più piccoli continua anche a novembre con Kidstime 3D. Allaccia le cinture, tutta la potenza del 3D. Per averla, basta chiederla. A novembre, solo su Sky 3D. A novembre, solo su Sky 3D.